Ciao a tutti caciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft ETA Minchia, chissà da quanto è che non lo dicevo così lento Allora, come promesso oggi andiamo a controllare, anzi a mostrare, quel metodo di uccisione dei Degli Enderman che vi avevo promesso nello scorso episodio Allora, dato che la ferrovia non è ancora pronta e che dovrò raccogliere un po' di materiali Non per quanto riguarda il ferro, che comunque ne ho a sufficienza Più che altro quello che mi manca è l'oro Ma dovrei riuscire a finirla in poco tempo, magari anche durante un live farò qualcosa E oggi come promesso ci rechiamo nel End Pensavo anche, sono ancora qui questi Ah sì, perché se non si carica il Fapper, il Chunk, rimangono lì Quindi teoricamente se ho saltato qualche punto esperienza Dovrei comunque trovarlo nel End, ve lo dico Quindi prendiamo la nostra barca Oh Grazie E ci richiamo in quella direzione Eh sì Questo episodio, ora che ci penso, è uscito a Natale Quindi sì, buon Natale No, mi si è sfappata la mano No Mi si sfappa la mano Perché mi si sfappa la mano Buon Natale a tutti Natale è inteso come festa dei regali O come festa Della nascita Di quel bambino Insomma Del bambino Questa sai che ti dico? Ce la portiamo appresso Perché non ho voglia di perdere altre barche Vero? Vero barca? Che barca? Ok barca Dunque Barchiamo in questa direzione Penso sarà l'ultima Forse la penultima La terza ultima volta che utilizzo questo metodo Per arrivare alla mia Fortezza Perché La ferrovia come vi dicevo È quasi completamente Pronta Allora Devo notare quanto è veloce Il trasferimento È Una cosa che apprezzo Molto carina Qua facciamo così Perché non mi piace Sbattere la testa Quando salgo Che sono? Un barbone Che devo sbattere la testa Quando salgo? Ok Allora Vediamo se Pensavo ci fosse Dell'esperienza Tipo là sopra Vi spiego dove Benna misè Qui? No Perfetto Via questi Ora Quello che voglio provare È La farm Di Birobi Sperano che funzioni Ma li facciamo anche così Vediamo Attiviamo un po' di gente Ahia Forse questa spalla Non è il massimo Perché c'è il knockback Proviamo a craftarne una Anche solo di pietra Però Eh sì Così Ti facciamo tipo Così Dai ti sto guardando Ti sto perfino scattando Delle foto Sono un paparazzo Vieni Maronna Mi quant'è lento Sto tizio Intanto vediamo Se mi può attaccare No Ok Mi serve Ti sto guardando Penso di poter fare anche così Ora che ci penso No Forse così Non è un po' eccessivo Così forse Sì Così dovrei riuscirci Proviamo Vediamo un po' tutti Eh no Lo vedi Non è una spada adatta Cos'è qua dietro Cos'è qua dietro Ehi Come a me bro I mean What the fuck Come a me bro Che è sono scompassi Magari sono tutti qua sopra Se se rompo il blocco Aspetta Controlliamo Eh 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 Cosa ti avevo detto io Eh ora come faccio io Cioè questo tizio ce l'ha con me Come dovrei essere Come dovrei fare Ah ma è semplice No è anche semplice Ora che ci penso Diciamo così Ah Ciao bro Come butta Fra te Ah finalmente Una ender parla Quindi ce l'hanno con me Per se si capisce Ce l'hanno con me Io ora mi faccio Un piccolo scudetto Un po' più grande E li guardo Ti sto guardando E dai Sei lento Esercitati Ti hai problemi Nella prostata Maronna mia Eccolo Tenterò di dargli L'ultimo colpo Oh 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 Devo rischiare Dai Vieni Guarda Tutta la gente Incavolata con me Li vedi E' tutta la gente Che ce l'ha con me Però si vede Che non ha memoria Cioè quando Quando lo colpisco Con questo tipo Di spada Va 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 male Ah guarda Quello ce l'ho con me Bravo tizio Ah Ah Io voglio dargli L'ultimo colpo Però Come faccio Cioè mi è pressoché impossibile Cioè mi è pressoché impossibile Oh yes Oh yes Look at me Ah non le voglio queste No ora le devo Come faccio a tornare Madonna Sono scemo Comunque avete visto Il principio Il problema maggiore È che mi serve Una spada Adeguata In diamante Perché se no Non è abbastanza Eccessivamente figa Da farmi Infigerrime Fapp Dunque Quello che tenterò Di fare ora È Farmi una spada Ho La capacità Di farlo Ho il dovere Di procurarmi Una spada Tale Solo Looting E sharpness Mi vanno benissimo Proprio A pennello Ma che dico A pennello A Cappello A cappella Mmm Che senso Bene Ehm Sì Prendiamo queste Le cose Che stanno cucendo Dall'altra volta Ena misera Quante è che stanno cucendo Queste cose Devono ancora finire Allora ho finito Vabbè qui manca poco Ok Tan 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 Ok Dunque sì Andiamo Andiamo Voglio un bel Se mi da Se mi da Knockback of flame Guarda Giuro Che La fappo Perché non è possibile Che bella la patata Così Non in che senso Guarda la forma Della patata Guarda La figura Della patata Oddio Doppi sensi Oddio Doppi sensi Perché Doppi figure Anzi Dove dire Devo cercare Di Abbassare la luminosità Che arriva Da dentro In che senso In tutti i sensi Questa luce Pusiamola di qui Qui Che luce arriva Arriva questa luce Mettiamola lì Anzi Ah Lo vedi C'era dell'acqua Lo vedi Lo vedi Qua sono un BL7 Però E qui Può spawnare gente E non mi piace 10 8 Non mi piace Va bene E ci vediamo Tra Pocherrimo Here we go Here we go Vabbè Non sono nemmeno tantissimi Speriamo di arrivare A livello che mi serve Cioè il 30 Per incantare la dannatissima spada Guarda se non arrivo al 30 Guarda non sai cosa ti faccio Lo sai cosa ti faccio Se non arrivo al 30 Lo sai vero Tu lo sai cosa ti faccio Oh si Siamo arrivati Ah c'erano anche altre palline Diamonds worth No Perché il knockback Perché il knockback Perché il knockback Perché il knockback Perché Vediamo se possiamo unirle Sarebbe epico O no Sì scusa adesso è la ghicchia Ma sto renderizzando tipo uno di quei video Fapposissimi Siete presente no Uno di quei video che alla fine Cioè pensi Ma perché l'ho renderizzato Eeeh Piazziamo una torcia E io Piazzo una torcia Di non ciò Non ciò Non ciò No Ok non c'è nessuno Dovei riattivare i suoni Lo so E lo farò Just a momento Please I need to sleep Ma nel frattempo Le mettiamo i suoni al 20% Dormiamo Che bello dormire Na 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 Too expensive sto cazzo Too expensive sto grandissimo Cazzo Dunque Lo terremo così Ma non per Capisci Non per Perché altrimenti Fapperebbe Posiamo ste cose One two Abbiamo della endstone Del vero Che non so dove vorrei mettere Perciò che sto scattando Scatto a bestia Guarda Guarda come scatto Faccio appena 60 fps Che luridi Lurido Lurido Vegas Vabbè mancano 15 secondi Quindi noteremo la differenza In tipo una decina di secondi Guarda così scatta Così scatta Così proprio scatta Così scatta Così proprio Scatta Così scatta Non vedi Non vedi più scatti Perché Perché non ci sono scatti Ok Mangiamo Propriamo anche Vegas Close Close No No Questo cos'è Non lo so Perché io fa Purtroppo Non è una cosa che ho detto io Proprio un assioma E così E basta Ma ragazzi Per questo episodio È Tutto Dovrebbe essere il secondo episodio cortino eh Mi dispiace ma Sono le vacanze E sono le vacanze No No Lurido Cagno Bene Per questo episodio è tutto Io vi saluto Ciao trututututti